Buonasera, buonasera a voi. Allora ricordo ancora una volta di esporre le vostre bandiere dell'Italia alle finestre delle vostre abitazioni. È un gesto simbolico, importante, che significa che vogliamo riappropriarci del nostro paese. È un'iniziativa del movimento Gile Arancioni, anche così un po' una forma per contarci. Divulgate questa informazione, ditelo ai vostri amici, ai vostri parenti, ai vostri conoscenti, perché, ripeto, sarebbe così un segnale importante se ci fossero da qui al 12 di settembre, quando ci troveremo in questa grande riunione a Rimini, ci fossero tantissime bandiere italiane. E veniamo al titolo di questo video. Ora io ascolto sempre con grande attenzione gli interventi da parte del generale Antonio Papalardo. Lui tra l'altro ha un'email dove tutti quanti gli possono scrivere e riceve tanta posta e lui commenta queste email che riceve. Ieri sera ne ha commentata una in particolare, probabilmente di un sergente dell'esercito, che così ci teneva a puntualizzare alcune cose. Una, credo, la più importante, anche se può sembrare ovvia, è importante sempre sottolinearlo e averlo presente. In generale, questi uomini che siano dell'esercito, dell'arma dei carabinieri, della polizia, le guardie penitenziarie e tantissimi altri, non sono certamente nemici del popolo. Nella maniera più assoluta, ma credo che questo gli italiani lo sappiano molto, molto bene. E anche il fatto, ed è questo che sottolinea questo uomo dell'esercito, che in queste circostanze, in queste situazioni non interveniamo perché abbiamo delle precise disposizioni, non vuol dire assolutamente che siamo contro il popolo. Lui tra l'altro faceva anche un esempio dicendo vedete, quando io magari scendo in piazza per controllare come avvengono le manifestazioni, io so perfettamente che in quelle manifestazioni potrebbero esserci anche dei miei amici, dei miei parenti, addirittura anche i miei cognati, i miei cugini, che non fanno parte dell'esercito. E io mai rischierei a loro di fare del male usando magari la forza, nella maniera più assoluta. cerchiamo naturalmente di evitarlo. Però la cosa che lui sottolineava era questa, che è il popolo italiano che si deve muovere, è il popolo che deve scendere in piazza, è il popolo che deve manifestare. Perché lui diceva, noi siamo l'ultima ruota del carro. È evidente che il giorno che voi vi presentate in piazza a manifestare, in migliaia e migliaia, noi a quel punto siamo totalmente dalla vostra parte, perché noi siamo cittadini del popolo italiano esattamente come voi. E giustamente il generale diceva, come dargli torto? Questa è la verità, è la realtà. E lui poi faceva alcuni esempi. Portava l'esempio che riguarda i gilet arancioni personalmente. Noi il 30 e il 31 maggio abbiamo portato nelle 33 città italiane oltre 50.000 persone a manifestare. Poi ci sarebbe stato questo atto conclusivo di riunire tutti quattro giorni dopo il 3 di giugno a Roma. Un atto importante anche per poter poi portare questo atto di richiedere dimissioni del governo sarebbe stato importante che ci fossero appunto migliaia e migliaia di quelle persone che già erano scese in piazza. E invece, giustamente, lamentandosi il generale ha puntualizzato che eravamo solamente in 3.000. chiaramente, assolutamente insufficiente per fare un'azione del genere e criticava fortemente gli italiani. Ora, io su questa faccenda sono perfettamente d'accordo col generale. Ma perché sono d'accordo? Perché, vedete, questi 50.000 che sono scesi nelle varie piazze italiane sono scesi perché sono venute a conoscenza di quello che era il programma dei gilet arancioni, sapevano perfettamente il programma dei gilet arancioni, cioè il fatto che prima ci fossero queste manifestazioni a carattere regionale e poi questa grande manifestazione conclusiva in piazza del popolo dopo aver raccolto tutte le firme nelle varie città. Ma purtroppo sono state appunto solo 3.000. E questo è una responsabilità perché è evidente che possiamo comprendere che era impossibile che tutte queste 50.000 persone convogliassero a Roma. Ma neanche 3.000. Ci saremmo almeno aspettati un terzo. Quindi circa 15.000 persone. E così non è stato. E giustamente il generale Antonio Pappalardo sottolinea che insomma è il popolo che deve fare dei sacrifici, è il popolo che deve capire che in questo momento bisogna talvolta anche partire e parentesi, se ci si mette d'accordo anche magari in questo periodo con Macchino Pullman la spesa è davvero relativa insomma, è abbastanza relativa. Ora, in altre circostanze però posso dire che invece trovo delle giustificazioni agli italiani e sono meno critico con gli italiani. Ad esempio, per quanto riguarda proprio il discorso di mettere alle finestre le bandiere italiane. Ora, è evidente che non basta la nostra buona volontà di chi è già all'interno del movimento per propagandare questa iniziativa. siamo in troppo pochi ed è naturale che quindi poi si rischia di essere davanti ad un fallimento come in questi giorni ormai è passata una settimana la cosa si dimostra tale, no? Perché francamente l'appello non è stato raccolto questo bisogna dirlo ma ripeto io su queste cose trovo delle giustificazioni agli italiani perché è troppo flebile la nostra voce ci vorrebbe molto di più voi fate solo conto se una cosa del genere lo dovessero dire nelle loro trasmissioni in print time i vari poro del debio giordano voi capite che alle finestre sicuramente ci sarebbero migliaia e migliaia di bandiere italiane perché l'italiano medio guarda la sera la televisione non legge pochi sono sul web se ne disinteressano e quindi è quello il mezzo oppure i giornali per quei pochi che leggono il giornale quindi la vera difficoltà è questa ed è anche la vera difficoltà di trovare diciamo le fonti per poter arrivare agli italiani e far capire a loro cosa sta succedendo e di scendere in piazza questa è la vera sfida che noi abbiamo nei prossimi giorni nelle prossime settimane riuscire a trovare la strada per arrivare attraverso la televisione che conta agli italiani e se non quella di farci aiutare da parte di quei giornalisti che hanno dimostrato di avere coraggio che hanno dimostrato di essere dalla parte del popolo io ho sempre detto al momento ne vedo pochissimi e spesso ho citato il nome di Massimo Giletti ecco che probabilmente dobbiamo fare anche come gilet arancioni tutti gli sforzi per arrivare a questo tipo di giornalisti a chiedere a loro di raccontare in primis quello che sta succedendo ma poi anche correttamente di quelli che sono i programmi dei gilet arancioni con questo io vi lascio vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani